Nooo Oh sono tutti qua sono tutti qua Nooo Posso dare solo ad una persona e non ad alcuni team se no mi si chiamano E si chiamano la fangule C'è un coglione eh un coglione Sì Mi chiamano la fangule Non è vero la mano che gli dà la pasta Ooooo E' un coglione E' un coglione E' un coglione Non è vero la mano che gli danno la pasta E' un coglione 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 Guarda lui è la notte Guarda lui è la notte Ma non hai capito che sono in matchmiking Ehhh Che cazzo non so io Deve dire il tuo amichetto che è Il doglione del marco Io ho una casarotta Mi ammazzano se devi due punti in abbono Ah non ti ne sono? Nooo Sto 4 mini studio e uno scudo zanne Venite Qua c'è un M4 head Qua c'è un M4 head Qua c'è un M4 Qua c'è un M4 head Dai non abbiamo inizibile Dai Ami Ami Qua c'è un M4 head Un M4 head Ah si Ah Allora Aspettami Sine qua c'è un M4 head Anche Secondo me quando noi avrebbero Un M4 head Un M4 head Però se li prendo forza Un M4 head 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 già poco fondo dorado la portiera gente li trova faccio qualcosa di dorado lo scartorato cazzo nel campo dal basket oh oh vieni attento, il jetter li sta affettando venga del jetter i postini dove stanno i postini ho il carrello, prendiamo il carrello e vogliamo vedere il pulso si si si, puoi andare più veloce ma no che voglio no no, andiamo su una scala e tipo io, io, io ok e facciamo la scala vai 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 ma da un lavoro no no non tiro non ti faccio da fare questo sal�� non sittiamo perché non è Late vai insomma si rompè sfaccato no io ne avevo un altro carrello lo avevo lasciato nella casa avevano materiale non volevo fare salvia alta si ce l'ha in materiale si sta facendo si sta facendo ti punghetti oh ci siamo tutti a chunk andavo a che ne ho tagliati l'arco ti la puoi portare l'arco ti la puoi portare l'arco io ho 2 medici 2 medici e 3 mini scudi mi scudi mi scudi mi scudi mi scudi mi scudi mi scudi ti la puoi portare l'arco va qua sopra va qua sopra non caduto qua seppegni scudente la sua dietro no adesso alietro la casa la ok a la bus ho visto il resto io non manco un po' un po' con un'altra letta ma sappiamo il double quello nuovo è quello hard qua c'è un pompa ah lo devo trovare singolo guard scusa ah 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 madonna mia non ho capito niente sono morto ho un medico c'è un rumore della pietra che ce l'avevo eh no ho lasciato un medico ragazzi mi servono colpi di bomba ma c'è la safe, c'è la safe, devo andare andiamo l'avete lasciato un medico si l'avevo lasciato io superficie da caccia no no c'è 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 ragazzi a me servono colpi di bomba ripeto 150 e lo posso dare in una faccia una terrascia qua lasciati costa la attiva la attiva la prendi i cazzo trampolini guarda qua guarda qua guarda qua ti sparo da questa è la seconda marzova c'è la gente vai a noi vai a noi dove si ci pusciamo oh ci incendi lì ti ha sparato se li potevamo ammattare no qui c'era il battale un patto sei bravo tu questo lo prendo io faccio qualche altro che me lo posso fare eh Luca Luca c'è la parte c'è la cosa è una mano è una foto nord nord non è salendo è nooo io erano visto uno spero non lo velo più è sparito mi sta attarando il sonno ho c'è già un taglinisio è minato ok decimi scuri abbiamo questo qua sono due vabbè ma le personalizzate così sono la batteria di costruzione la donna mi eravate un po di spara a casa la se lo buttiamo giù a voglia di persone che non voglio cerchiamo di buttare qui vai tutti poi tutti prima non non tende la 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 madonna mia ma di posti che hanno fatto ragazzi allucinando ma siamo difensiti e che non ha fatto terra aspetta aspetta che mi mi prendo tutti e ma 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 una vita, una vita, facciamo io credo che c'era una vita una vita, una spinta di vita si è aperto oh, qua ce l'ha fatta una super oh, va bene, non ti piace, era forte andiamo, andiamo, andiamo no, 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 no oh, no, 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 no a stare a uno aia uno l'atterrato oh, guarda che stresca, steduto qua guarda, guarda lo sento E' un po' di 4 può entrare in che si hanno detto non sceglie agli altri quando detto oggi che se uno è ps4 gli attivati tu posso entrare da quello di dire ai materiali in danza che merda quello materiale 520 più tre volte 16 entrando a me mi sono arrivati dall'alto ma questo questo è un sacco e modifico sicuramente materiali si senta anche perché non tanto di entrare davanti ristorato dai questi erano questi erano sicuramente ho visto l'autentro delito a essere di darti tende a questo mi dà manerà durante grazie gente non ha fatto c'è lo contrario non ho fatto il 3 non ho scarrato a quello quello lì io non ho la vita buono il tempo sai che mi lancerò oggi? mi sono messo le quelle in posto ma quanto veloce a costruire ma anche lui e anche l'ordine sono detto che loro prova di più con le da vicino ma che intende l'aita pensate tutti in termine non d'arte chiusi di casa io non ti ho sentito ci sono ma che è norma io non ti ho sentito come norma ma ti ho sentito vai sono morti della morte non si stanno a tramortire la testa ma non si stanno a tramortire cazzo si scopla però non vuol dire 1,2 anche il Reiki se l'ha avvolto come vuol dire eh vai a vedere vai a chi è molto enorme ok sei 1 contro 1 contro 1 si si oh ma cadere no vai tanto bella si però sai che c'è il bug del cazzo che quando tu passi ti tira verso 10 e poi è 20 eh ma trovo devi stare zitto fai zitto fai zitto fai zitto muovi muovi ce la sai fai uno contro uno fai uno contro uno fai una si ho avuto oh oh mio dio che ho fatto scendere quello mi lo sono facendo quello del Cittino fai dici fai dici io l'ho non c'è quello che si sentino anche da destra manco l'arri che erano uno contro uno contro uno che sono difficili da vincere parte di fronte mica sono sempre c'era vincere è vero che ho fatto gli utenti sparo lancoranzi c'è l'ecco che fa l'ho ma questo è tipo uno dai ai a te ma un parco c'era il cecchino potete farlo io gli sparerei un ratto d'andolo perché questo sembra sciamo ma infatti anche per il mio profondo è scassissimo è scassissimo deve arrivare l'uomo non ti sparano non so che sta facendo fai il bug ah adesso che stiamo facendo no no non è scambi non è scambi stai spaccato io gli sarai prima semmai dovevi sparlare ma semmai è male non è scambi non è scambi ma non è sicuro io gli ho fatto ho trovato un altro dove ce ne sta lì il beo vabbè che vuole il cazzo di che fa l'ora allora non è tanto che doveva costruire che se ne doveva cominciare a costruire sta calendo oh mamma ho detto che stava calendo che cosa no, sta calendo sta calendo sta calendo c'è che serve curve ma come si chiama la TSM? è quello lì di dire Gorgic 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 Grazie a tutti.